GF VIP, rivelazione shock di Edoardo ha provato a baciarmi. Ancora problemi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La relazione tra i due geffini continua ad essere complicata. Tra litigi, frecciatine, allontanamenti e ripicche. Dopo l'eliminazione di Antonino Spinalbese. Che sembrava essere il terzo incomodo, ecco spuntare un altro quarto problema, Nicole Murgia. La sorella del calciatore della spalla Alessandro ed Edoardo Donnamaria sono diventati subito amici ma secondo i telespettatori hanno notato effusioni tra i due che sembrano rafforarsi sempre di più. Nelle ultime ore Nicole ha confidato a Jaele Dedonac e Edoardo ha provato a baciarla nel van. Dove si sono rifugiati lontano dalle telecamere e staccando i microfoni. Leggi anche GF VIP, tra Oriana e Daniele è tutto finito. La ragazza a Nicole, non mi sento desiderata. La reazione di lui. Da giorni Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sono più che mai vicini e non i fan hanno notato i loro abbracci e le strette di mano. Mentre al contempo vanno avanti litigi tra Geffino e Antonella Fiordelisi. Ci saranno novità a GF VIP. Durante la scorsa puntata, Signorini ha mandato in onda il momento in cui Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, insieme ad Edoardo Tavassi e Nicole Incorvaia, si sono rifugiati nel van e hanno staccato i microfoni per trascorrere qualche ora di spensieratezza lontano da occhi indiscreti. Tutti e quattro hanno infranto il regolamento e per questo sono stati puniti dalla produzione. Che li ha mandati in nomination? Non è chiaro cosa sia davvero accaduto nel van ma pare che ci siano state delle fusioni di troppo tra Donnamaria e Lamurgia. Come del resto raccontato in seguito dalla stessa Nicole all'amica Gele, la reazione dei fan Donnalisi è stato lampante. Ovvero i sostenitori della coppia formata da Edoardo e Antonella Fiordelisi. E le reazioni dei fan non si sono fatte attendere. Molti stanno incintando a far fuori dal GF Vip Nicol Murgia mentre altri hanno pubblicamente chiesto alla produzione di indagare approfonditamente sulla vicenda e avvisare Antonella. Che da giorni mostra una certa sofferenza per la sua storia d'amore, decisamente altalenante, con Donnamaria. Grapparul din toto, toți MC-ul care am crescut, pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, parasiții, dragonul, maxi, gespe, chimie, rimaru, spike, puia, si, swapo, grasul, nimeni altu, delvede sau carpo. Trebuie să vă mănânci vers cu vers card intens, trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu boss-ul. La câte urât sunt, cum să vă iau cu frumos? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie, când adun cuvinte din Domn, mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius, să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie.